L'architetto Fabrizio Baglioni è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo. In mattinata ha incontrato la stampa. Sentiamolo. L'idea è positiva, ho avuto una percezione di una città, al di là che è bella ovviamente, piena di storia, di una città accogliente, così come ho trovato accoglienza qui al comando. Devo dire che i colleghi che erano qui già ben organizzati, una grande professionalità e uno spirito di collaborazione importante, che è quello che è necessario per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. Sulla provincia di Arezzo è una fra le più vaste e fra le più grandi d'Italia. Il territorio è vario, va da zone pianeggianti, collinare e montuose. Soffriamo un po' quello che però non è soltanto tipico del comando di Arezzo, che è quello delle carenze del personale. L'amministrazione sta provvedendo con assunzioni importanti, ma prima di poter compensare il turnover, un po' di tempo ci vorrà. Però faremo del nostro meglio e con le risorse che abbiamo a disposizione siamo sicuri di garantire comunque il soccorso tecnico urgente su tutto il territorio. Due gli eventi in programma per la fine di ottobre. Sono due date importanti, 29 e 30 ottobre, che celebreremo i 150 anni del Corpo dei Civici Pompieri di Arezzo e 70 anni del reparto volo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Due eventi importanti che vedranno coinvolto gran parte, quasi tutto il personale del comando di Arezzo. Si svolgeranno in città, presso il Prato e presso Piazza della Libertà, a partire, fatemelo dire, insomma il programma è articolato, però mi sento di segnalare la scala romana che faremo al Prato, che consiste in una scala controventata, quindi non appoggiata, alta 30 metri e quindi devo dire che è una manovra abbastanza spettacolare.